Investimenti complessivi per 24 miliardi di euro per lo sviluppo delle infrastrutture e l'acquisto di nuovi treni, forte attenzione al trasporto pubblico locale e interventi sulle tratte italiane e alta velocità, alta capacità dei corridoi TNT definiti dall'Unione Europea, con particolare riferimento al Sud Italia. Sono soltanto alcuni degli obiettivi dichiarati per il nuovo piano industriale 2014-2017, presentato a Milano il 25 marzo 2014 al mondo finanziario e alla stampa da Mauro Moretti, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane. Abbiamo sviluppato il nuovo piano industriale tenendo in conto quelle che sono state le indicazioni dell'azionista. È stato questo un periodo di grande crisi nazionale e internazionale e il gruppo Ferrovie dello Stato si è presentato agli inizi di questa crisi in condizioni drammatiche. In questi anni abbiamo comunque fatto un'operazione di passaggio dal risanamento industriale a una risposta forte alla prima crisi internazionale e siamo passati, nonostante la crisi, a uno sviluppo concreto. Ora la sfida è quella di far sì che venga valorizzato e appieno il capitale investito nel gruppo. Complessivamente l'investimento nel settore del TPL, compresi i nuovi treni e interventi sui rotabili, è circa 3 miliardi. Questi saranno tutti completati entro il 2015 e quindi avremo oltre 430 nuovi convogli o convogli revisionati che entrano in servizio e quindi si vedrà una parte importante del trasporto che cambierà. Questo ovviamente non è assolutamente sufficiente. Questa fa parte di quel piano di 2 miliardi e 150 milioni di investimento in nuova trenotabile che è stato sottoscritto e quindi il nostro impegno con i contratti del 2009-2014 noi crediamo che debba partire assolutamente una nuova stagione di investimenti altrimenti la qualità del materiale rotabile tenderà inevitabilmente a degradarsi. Il contratto di programma è tendenzialmente teso a sistemazione delle aree metropolitane, a garantire lungo le direttrici del corridoio europeo velocità, sagome e lunghezza binarie adeguati per treni merci lunghi e più robusti. In più il contratto di programma prevede il completamento o almeno l'avvio delle opere sull'asse orizzontale proseguendo l'alta velocità da Milano verso Venezia, lotto significativo da Brescia a Verona, l'avvio anche sulla Verona Padova è importantissimo un finanziamento per lotti costruttivi sulla Napoli-Bari dove già due grossi interventi potrebbero partire in tempi più rapidi in quanto già finanziati e sarebbero la Cancello Napoli e la Napoli-Frasso-Telesino e poter avviare i progetti definitivi sugli altri lotti verso Bari.